Sì Quale? Di maguro Saresti un maguro? Lui sarebbe un tonno Posso dirti una cosa in giapponese? Sì Sai cosa sono le ragazze tonno? No Quelle che a letto non si muovono di una cippa Oh c'è la pizza! 7 euro la pizza fatta a mano 5 euro di pesto alla genovese 2 euro e 50 Di gnocchi 2 euro e 50 3 euro Scamorza 20 euro 10 euro La banana da 3 euro Signore e signori 50 euro di carne A fine video faremo assaggiare a Mangaka 96 questo buonissimo natto Oddio, puzza! E o lo finisce oppure ci sarà la penitenza Oggi andiamo al Maru Show Un altro supermercato Siete pronti? Via! Mangaka 96 prego Sono due piani Due piani di cose da mangiare Iniziamo dal piano numero 2 Iniziamo subito con la frutta Come nei nostri praticamente Sì Solo che qua il prezzo è forse un tantino più altino Non lo so Gli avocado Un avocado 168 yen Costano a meno che da noi Davvero? Sì da me costano 4 euro Ma un avocado non ci credo Ma cosa stai dicendo? Forse è un ubriaco Eh no L'apple mango Questo è una mela e un mango 8 euro di mela mango Questo è il mango normale Costa sui 3 euro Un mango invece mixato con la apple 8 euro Queste sono banane Vedi in Giappone cercano sempre di mettere faccine divertenti su Questo è banana oggi Questo sarebbe il re banana Il re banana Vedete che c'ha la corona Oh c'ha il dragon fruits In Italia lo vendono questo? Non ho mai visto io in Italia personalmente Ma questo non costa tanto dai 70 centesimi Mini pannocchie Cos'è sta roba? Queste sono le pannocchiette Le pannocchiette Sol Mafia sto pensando a te Eh ti faccio il proprio scritto baby con Le pannocchiette baby Facciamo una foto da mandare a Sol Mafia Pim I cetrioli costano Guardate quanti sono Ma sottili soprattutto Non lo so A me sembrano normali Guardali Sono più sottili Ma questa è una miseria Ok Faccio di dopo un cetriolo come è fatto Allora No grazie Se volete vedere il cetriolo di mangaka 96 scrivetelo nei commenti Comunque compriamo il natto che a fine video faremo assaggiare a mangaka 96 questo buonissimo natto E o lo finisce oppure ci sarà la penitenza e dovrà farmi ben due cover a gratis Non scherzo Beh però se lo finisci non me ne devi fare più neanche una Ma no mentre me lo fa una Allora facciamo tre Abbiamo deciso di comprare un po' di cose Quindi questa banana da 3 euro e il natto che faremo provare a mangaka 96 a fine video Quindi tenetevi pronti Ho già detto che abbiamo fatto la spesina Stiamo comprando delle cose utili Abbiamo fatto la spesa solo perchè tanto paga sebas Tranquillo pago io perchè siccome Poi tu offri la cena Siccome offri la cena mi sembra Mi sembra d'ovvio Adesso andiamo a mangiare una seppina Al nostro mangaka 96 E' buonissima Buonissima Stai tranquillo che è buona Buona L'assaggio anch'io Vieni Puoi usci adesso Sembra parpaggio Ha un gusto italiano vero? Si Cioè è la cosa che più uno ricorda a casa quando sto qua Veramente Davvero? Sai di cosa sa? Di cosa? Tipo sughetto con le cozze Non lo so E' vero vero Allora dobbiamo sapere che cos'è la missione di oggi Trovare delle cose italiane qui in questo supermercato Secondo me non le troviamo Se volevi delle cose italiane dovevi andare dall'altro posto Però qualcosina Queste sono tutte le salse Oh c'è il carpaccio Cos'è sta roba? Questa è carne di Di maiale Di maiale Spesso no? Nooo Questa si mangia con la nave oppure si fa un donburi Ah ok 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 Questa costa 50 euro di carne Signore e signori 50 euro di carne Questa è da Kumamoto Oh mio dio questa costa ancora di più Due pezzettini Questa è sempre da Yamagata 50 euro due pezzettini Quant'è? 50 euro Oddio no Ah no perchè praticamente sarebbe Hangaku Forse perchè sta per scadere o cose del genere Ah metà prezzo All'inizio costava 100 euro Ma no magari no Ma ne mettono tanti Ma sicuramente la vendono Se no non avrebbero così tanto 100 euro di carne Ma cazzo ma Guarda quanto è E' spessa E' spessa Tipo la Fiorentina no Quanti grammi sono? Quanti grammi sono? Sono due chili Due chili di carne eh Allora vegani che siete all'ascolto Perdonatemi Ho già mangiato vegano e Non sapeva di niente Costava tanto Oh Arriviamo al reparto figo Oh Prendiamo qualcosina Sushi Guardate questo Solo 6 euro Prendiamo un po' di sushi dai dai Mangiamo per strada come i barboni Mangiamo questo che è per cena Questo sono solo 110 mila Però dai io ne prenderei almeno così no? Prendiamo questo dai Dai prendiamo quello lì E questo in realtà sarebbe per due persone Comunque sono 15 euro di sushi Ma questo in Italia non lo trovate in tutti i ristoranti Quindi questa è la cenetta di oggi Se fosse un sushi che sushi saresti mangaka 96? Se fosse un sushi sarei un bel pezzettone di sashimi Quale? Di maguro Saresti un maguro? Lui sarebbe un tonno Posso dirti una cosa in giapponese? Si Sai cosa sono le ragazze tonno? No Quelle che a letto non si muovono di una cippa Un gambero È piuttosto un gambero Si meglio meglio Ho una seppia anche Eh eh la seppia è un po' indigesta Cosa ho trovato? Cosa ho trovato? La salsa italiana del basilico Pure basilico Oh anche la mozzarella La mozzarella quanto costa? Questa mozzarella al 2 euro e 50 Una mozzarella solo eh Si ma viene dal Hokkaido però Questo è il parmigiano Costa poco eh Costa solo 3 euro No ma costa poco Questo lo trovi anche a 6 euro a volte Si Vabbè Io non lo so però questa mozzarella a 2 euro e 50 Magari no Voi cosa ne dite? Stiamo facendo la spesa Con la gata 96 Questo è il nostro terzo appostamento Quindi grandi sorprese Cos'è quella cosa di One Piece? Cos'è questa cosa di One Piece? Ah praticamente se accumuli i punti ti fanno i regali Che figo Guardate potete avere tutte le le tazze di One Piece Oh sta la pizza 7 euro la pizza fatta a mano Praticamente se l'annaffi viene morbida Se l'annaffiate viene morbida Io non sapevo che le pizze E poi non lo so Spunterà una pianta di 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 fagioli Poi la metti in microonde per finire di cuocerla No no c'è scritto di farla al forno Viene più buona al forno Guardate che comunque mangaka 96 Al terzo appuntamento finalmente si sta aprendo E mi sta svelando tutte le sue tattiche di Youtube Le dirò tutte nel mio ultimo singolo Flower il nuovo singolo di Sebastiano Serafini E' ora disponibile nei maggiori digital store Voglio mangiare questa pizza qua Così mi levano direttamente la cittadinanza italiana Credo Sono abbastanza sicuro Si Ma dai che tu vorresti essere giappone No no Tu vorresti la cittadinanza giapponese Ma se me la danno quella giapponese Infatti noi abbiamo comprato sushi per cena Questa è pasta Questa sarebbe con l'anago Sai che cos'è l'anguilla E l'altra invece con la papera Che c'è scritto buono però è quella la cosa che fa ridere Guardate lo chef Marco Pasta Marco Pasta Guardate Marco Pasta Com'è soddisfatto Guarda che Sekai Champions E' il champion al mondo eh Va bene E guarda che Jishin no pasta sauce Vuol dire che È confident Crede nella sua pasta Il costo del formaggio è assurdo Questa è di parmigiano reggiano eh 30 mesi Parmigiano reggiano 10 euro Guardate quanto ce n'è Ce n'è 100 grammi eh Questo viene 10 euro E la scamorza 20 euro Da noi viene tipo 2 euro No dai la scamorza viene sui 15 15 15 Però sono un sacco di formaggi eh 15 euro Guardate però quanto costano invece gli affettati Questo per 4 euro L'affettato misto 10 euro E si sta parlando di 100 grammi di affettato misto 10 euro Oh mio dio Poi Yuka ci ha portato il carry di Pikachu Questo costa solo un euro Da noi quello a Luca costerebbe tipo 15 euro Vedete Ecco l'altro lato della medaglia Però bel mascarpone Qua viene 6 euro così Beh ma 6 euro Ma anche di più 250 grammi Oh mio dio Lo stracchino Quanti grammi sono di stracchino 100 grammi di stracchino Quanto possono costare? 10 euro 11 euro Anzi un po' di più 12 Ma ci hanno anche i sughi della barilla eh 5 euro di pesto alla Genovese Quanto costa questo in Italia? Quel pesto alla Genovese sarà da noi 1 euro 2 euro Qua 5 euro 5 euro Onesto 5 euro 2 euro e 50 di gnocchi Per 200 grammi di gnocchi Il carry della carne di Kobe Del valore di 4 euro e 50 Vuoi che te lo compro come un miaghe? Lo vuoi? Te lo cucini in Italia? Precato in Italia Devo mangiare la carne di Kobe vera Eeeh Mi sono andato a Chiotta a mangiarla Non l'ho mangiata come ma Comunque abbiamo preso uno dei supermercati più costosi al mondo Si perchè veramente costo tantissimo Comunque sapete che sono trentini? I loaker Io sono stato a vedere la fabbrica E te li fanno anche fare E' vero eh Ci sei stato anche te Ma ma che sa Cos'è? Questo è Mochi Haruki Che sarebbe Mochi Haruki Vorrei vedere che te lo puoi portare a camminare L'olio L'olio da passeggio cos'è? L'olio da passeggio? Si che così sai Metti magari sei al ristorante E dici ma che schifo Vorrei un po' d'olio Tarararara Avete pensato come la pubblicità delle Vigerson? Però con l'olio Comunque ho notato lì qualcosa che volevo farti vedere Ragazzi questa è la cioccolata Maggi che vendono anche in Italia Che ha lavorato con me nel music video di tornato No comunque questa è buonissima La vuoi mangiare? La vendono anche in Italia adesso Sapete che oggi è la golden week no? Siamo nella settimana della golden week appena iniziata Il 5 sarebbe la festa dei bambini Quindi questo è il koinobori Te lo mettono per festeggiare i bambini e per quello che ci sono adesso Questa mazzuri Tu quanto pagheresti? Una bottiglia di vetro con dentro del caffè freddo Un euro E invece lo potresti pagare anche 8 euro In Giappone Ma perché? Il caffè liquido Perché scusa c'è anche il caffè solido Ma forse Ma non so se C'è proprio il caffè normale Ma perché? Non so se questo è liquore e sake però Rimettiamo alla posta che io danneggio tutto Sì Ma invece volevo prendere una bella bottiglia di sake Mettila in mano Che bellino Ma perché puzza? Ma non puzza è profumo Arrivederci Grazie a tutti